Ciao ragazzi e benvenuti nel quattordicesimo episodio della serie su JavaScript. Oggi vediamo cosa sono le maps o mappe e come usarle. Una map contiene due informazioni, una chiave, la key, ed un valore, che può essere di qualsiasi tipo. Inoltre una mappa ricorda l'ordine di inserimento delle chiavi. Adesso state vedendo una tabella con i metodi principali che possiamo fare sulle maps. Vediamo ad esempio la funzione new map, che ci permette di creare una mappa nuova, set e get, con cui invece impostiamo nuovi valori o li prendiamo, oppure delete, che elimina un elemento dalla mappa. Ma vediamo come si crea una nuova map. Ad esempio andiamo a creare la solita lista di frutti. Quindi cost, diamo un nome a questa variabile, nel mio caso frutti, è uguale a new map, con la M maiuscola, poi parentesi tonde e punto e virgola alla fine. All'interno di queste parentesi tonde andiamo a creare la nostra mappa. Per farlo apriamo due parentesi quadre e inseriamo il primo elemento, nel mio caso mele. Questa è la cosiddetta chiave. In questo caso la chiave è una stringa. Poi separiamo la chiave dal valore con una virgola e appunto gli associamo un valore, ad esempio 250. Quindi in questa lista abbiamo 250 mele. Bene, questo è il primo elemento della mappa. Con una virgola possiamo andare a creare un nuovo elemento, quindi di nuovo parentesi quadrate. Gli diamo una chiave che deve essere ovviamente diversa da quelle già esistenti nella mappa, ad esempio banane. Virgola gli associamo un nuovo valore, ad esempio 60. Poi creiamo un nuovo elemento, quindi virgola. Andiamo a capo, parentesi quadrate, nuova chiave, ad esempio kiwi, virgola, un nuovo valore. 400. In questo modo abbiamo creato la nostra mappa di frutti. Possiamo anche aggiungere nuovi elementi alle mappe con il metodo set. Quindi invece di dichiarare la mappa e associare subito degli elementi, possiamo semplicemente creare la nuova variabile frutti, che è uguale a una new map, e sotto gli andiamo ad aggiungere i vari elementi. Quindi per farlo dobbiamo scrivere il nome della variabile, nel mio caso frutti, punto e utilizziamo la funzione set. Poi due parentesi tonde e all'interno andiamo a scrivere prima la chiave, quindi come prima mele, virgola e gli associamo un valore, ad esempio 500. Quindi come prima gli andiamo a creare i tre elementi, mele, banane e kiwi, e associamo dei valori. La funzione set la possiamo anche usare per reimpostare nuovi valori alle mappe. Quindi in questo caso noi abbiamo già una mappa con le mele. Noi se vogliamo modificare quella mappa, basterà scrivere frutti, punto, set. Usiamo di nuovo la stessa chiave, quindi mele. E invece di impostare un valore uguale a 500, ad esempio gli mettiamo 90, punto e virgola. Ok, ma se vogliamo prendere un valore di una mappa, beh, usiamo il metodo get. E passiamo come parametro la chiave dell'elemento. Ad esempio stampiamo sulla pagina web quanti elementi sono presenti all'interno delle mele. Quindi per farlo scriviamo che testo, che è la nostra variabile che visualizziamo nel paragrafo, è uguale a frutti, appunto il nome della variabile che contiene le mappe, punto get, quindi questa volta non usiamo il metodo set, bensì get. Quale elemento della mappa vogliamo prendere? L'elemento con chiave mele. Quindi tra virgolette inseriamo mele. Salviamo il codice. Se andiamo nel browser e ricarichiamo la pagina, ecco qua che ci compare 90. Appunto il valore associato alla nostra mappa mele. Se volessimo visualizzare ad esempio i kiwi, basterà scrivere qua nella chiave kiwi. E infatti ecco qua il nostro valore 79. Vediamo anche altri property delle mappe, come la property size, che ci restituisce il numero di elementi presenti nella mappa. Ad esempio mandiamo sulla console questo valore, quindi console.log, frutti.size. Se andiamo nella pagina web e ricarichiamo, apriamo la console, e come vedete ci viene stampato tre, appunto perché nella nostra mappa sono presenti tre elementi. Prima di questo console.log, ad esempio, eliminiamo un elemento. Per farlo utilizziamo il metodo delete e gli passiamo come parametro la chiave dell'elemento che vogliamo eliminare. Ad esempio frutti.delete banane. Se salviamo e ricarichiamo la pagina, questa volta ci viene detto sulla console che la variabile frutti contiene solo due elementi. Se invece non siamo sicuri dell'esistenza di un certo elemento nella mappa, possiamo usare la funzione has, che ci restituisce true se esiste, altrimenti false. Quindi dopo aver eliminato la nostra chiave banane, facciamo un console.log di frutti.has e gli passiamo come chiave banane. Ricarichiamo la pagina e come vedete ci viene detto false, appunto perché non esiste nessun elemento con chiave banane all'interno della variabile frutti. Ovviamente le mappe potrebbero avere qualsiasi tipo di key. Noi fino ad ora abbiamo assegnato delle string come chiavi, ma potremmo anche usare dei numeri o delle variabili booleane. Bene, per questo breve video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate like per supportarlo con l'algoritmo di YouTube, commentate per qualsiasi dubbi o domanda e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.